Trattare i rifiuti e produrre energia, tutto questo in loco per un piccolo comprensorio industriale o una singola azienda. Un impianto versatile di piccole dimensioni è stato brevettato da un'azienda toscana, la NSE Industry. Si chiama NSE Start e si basa su un sistema innovativo in grado di sfruttare il processo di pirolisi per produrre energia da rifiuti che altrimenti finirebbero in discarica. Manca solo l'avallo della provincia di Pisa e l'impianto sarà inaugurato e messo per la prima volta in funzione a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, alla Waste Recycling, azienda che si occupa di recuperare e riciclare i rifiuti. Maurizio Gianni, presidente della Waste Recycling, lo dice la parola, è un'azienda che si occupa del riciclo dei rifiuti a Castelfranco di Sotto. Presto qui verrà implementato il pirogassificatore della NSE Industry, un impianto innovativo. Eccoci, spiega perché per la vostra azienda questa è una soluzione ottimale e poi anche di che cosa si occupa la sua azienda. La Waste Recycling si occupa da oltre 20 anni del trattamento di rifiuti industriali. Quindi questa di fatto è una piattaforma transitoria dove entrano rifiuti prodotti dalle industrie, attività artigianali o commerciali, entrano sia rifiuti liquidi che rifiuti allo stato solido. Per quanto riguarda i rifiuti liquidi abbiamo degli impianti importanti di ultime tecnologie dove i refiuti subiscono un trattamento sia biologico che chimico-fisico. Per quanto riguarda invece i rifiuti allo stato solido, oltre all'impianto di inertizzazione e altri impianti per la riduzione volumetrica dei rifiuti, abbiamo nello specifico un impianto di selezione. All'interno di questo impianto vengono recuperati rifiuti carta, cartone, plastica, materiali ferrosi e plastiche. Da questo impianto chiaramente avanza una parte dei rifiuti indifferenziati che oggi vanno in discarica. Noi abbiamo pensato al progetto di piroga e plastificazione per gestire in questo impianto appunto quei rifiuti che oggi avanzano dalla selezione. Quindi per chiudere il ciclo all'interno della propria azienda su quei rifiuti che oggi vengono ricaricati, quindi riportati altrove nelle discariche toscane, e invece potrebbero essere trattati in questo impianto producendo poi energia elettrica e energia termica da sfruttare nei nostri impianti all'interno della struttura. Agostino Fragai, responsabile della NS Industry, siamo ormai alla prova dei fatti, perché dalla teoria bisogna poi necessariamente passare alla pratica. Quindi se il concetto del vostro nuovo macchinario si può applicare a un'azienda, si può applicare anche a molte aziende. Questo come potrebbe rivoluzionare il modo di smaltire i rifiuti a livello nazionale? Innanzitutto bisogna dire che noi siamo un'azienda che si propone di produrre tanti di questi impianti, ma vorrei rassicurare, viste anche le polemiche che ruotano intorno al posizionamento del primo, che noi in quella zona faremo quello e non ne faremo altri. Gli altri li vorremmo invece vendere fra i tanti clienti italiani ed esteri che si sono in qualche modo prenotati, e che stanno attendendo di poter vedere fisicamente l'impianto e di poterlo vedere anche esercire, che è poi la cosa ovviamente più importante per tutti i macchinari, ma per questo settore in particolare. Sembrerebbe l'impianto fatto apposta per voi, perché ricordiamo che è un impianto per un piccolo comprensorio industriale, però qualcosa osta, perché ci sono dei comitati di cittadini che sono contro questa soluzione, anche il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo si è pronunciato in modo sfavoribile. Si sente di rassicurare i cittadini? A che punto siamo con i permessi? Tutte le valutazioni sono state fatte da questo punto di vista per la salute e la sicurezza dei cittadini? A noi, come abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio, non abbiamo nessuna intenzione di creare dei problemi, né tantomeno a noi che lavoriamo in questa azienda, siamo 95 addetti che stanno qui 10-12 ore al giorno, quindi l'impianto verrebbe realizzato all'interno della nostra struttura, quindi figuriamoci se abbiamo intenzione prima di tutto di nocere alla salute nostra dei nostri dipendenti e tantomeno alla salute dei cittadini che vivono in questa zona. Noi siamo tranquillissimi anche perché il nostro progetto è già passato dalla conferenza dei servizi e mi piace sottolineare che ha ottenuto il parere favorevole dell'ARPAT, dell'USL, dell'ufficio tecnico provinciale e dell'ufficio tecnico regionale, quindi l'impianto è risultato eccellente e inattaccabile dal punto di vista tecnico.